questo congresso europeo del 2024 è stato un piacere poter presentare un aggiornamento dei dati del registro optima hf che vi ricordo essere un registro italiano nato dalla collaborazione tra la società italiana di cardiologia quindi la SIC e l'ARC e che ha l'obiettivo di analizzare il nostro atteggiamento terapeutico nei confronti di pazienti affetti da scompenso cardiaco in particolare in questo evento abbiamo avuto la possibilità di presentare i dati sulla sottopopolazione di pazienti affetti da scompenso cardiaco a ridotta frazione d'iezione in cui abbiamo osservato dei tassi molto buoni di prescrizione dei quattro pilastri raccomandati dalle linee guida con prescrizioni molto alte anche per i nuovi relativamente farmaci ovvero per il sacubitrilvalsartan e per le gliflozine nonostante la prescrivibilità ad esempio per le gliflozine sia disponibile in italia già solo dal gennaio 2022 e la nostra raccolta dati che è focalizzata e stata effettuata tra il gennaio e ottobre 2022 ha visto un tasso di prescrizione dei farmaci superiore al 60 per cento quindi una rapida implementazione dei farmaci nella pratica clinica quello che abbiamo però osservato e su cui dovremo lavorare nei prossimi anni è un tasso basso di terapia di combinazione quindi è meno del 50 per cento dei pazienti che assume i quattro farmaci in contemporanea e purtroppo ancora una minoranza di pazienti assume le dosi target quindi dovremo lavorare nei prossimi anni sull'importanza e l'implementazione della terapia di combinazione e il raggiungimento non tanto delle dosi target ma delle dosi massime tollerate da ogni singolo paziente in aggiunta a questa sotto analisi sulla ridotta frazione d'iezione abbiamo avuto la possibilità di presentare i dati di prescrivibilità specifici per il sacubitrilvalsartan nella nostra popolazione a ridotta frazione d'iezione abbiamo caratterizzato i pazienti sulla base dei criteri dello studio paradigm hf e abbiamo osservato che l'ottanta per cento circa dei pazienti rispecchiava questi criteri e che fortunatamente il 93 per cento di essi era già in trattamento con il sacubitrilvalsartan ma il dato su cui dobbiamo lavorare è sui pazienti che non assumono il farmaco perché di questi pazienti il 60 per cento di essi è potenzialmente leggibile al farmaco in quanto rispecchia tutti i criteri del trial paradigm hf quindi è una popolazione che non ha controindicazioni al farmaco ma che ancora non lo assume quindi l'obiettivo delle società scientifiche in particolare di sic e d'arca nei prossimi anni sarà quello di implementare il trattamento con questi farmaci relativamente nuovi e di recuperare questa quota di pazienti che non ha controindicazioni ai farmaci ma che ancora purtroppo non li assume per questo stiamo lavorando con interventi educazionali divisi su macro aree in Italia a nord centro e sud per capire quanto il nostro intervento educazionale possa poi migliorare la pratica clinica avremo a breve i dati di follow up per capire i nostri centri come migliorano nel tempo la loro pratica clinica e avremo a breve i dati sul de novo quindi per capire quale sia l'inserimento dei farmaci ed il sequenziamento di inserimento nello scompenso cardiaco de novo ed avere un dato nuovamente rilevante per la pratica clinica italiana clinica italiana